Sono Giacomo Sacco, allenatore delle giovani The Warriors Bologna, il mio project work è sul Punt Block. L'idea era quella di fare una sorta di guida per questa azione delle special teams che può essere replicata poi per tutti gli altri tipi di azione delle special teams. Spero sia interessante.